Sei pronto a ridere? Ecco 6 barzellette classiche su suocere e suoceri. Un uomo dice all'amico, sai, il mio suocero mi ha promesso 2000 euro se smetto di fumare. E allora? Chiede l'amico. E allora risponde l'uomo devo trovare qualcosa di economico da smettere. Un uomo e il suo suocero vanno a pesca. Dopo un po' l'uomo dice, sai, se prendo un pesce, lo do a mia moglie. E se prendo io un pesce? Chiede il suocero. Anche il tuo lo darai a mia moglie. Risponde il genero. E se non prendiamo nessun pesce? Insiste il suocero. Allora conclude l'uomo sarà colpa tua. Suocero. Chiedono a un uomo. Com'è la tua suocera? L'uomo risponde. La mia suocera è come un telecomando. Come mai? Chiedono sorpresi. Perché funziona solo se la batti. Un uomo entra in una gioielleria e dice. Vorrei un regalo per mia suocera. Il gioielliere risponde. Certo. Abbiamo un bel ciondolo di diamanti. No. No. Risponde l'uomo. Qualcosa di molto più economico. Tipo una lapide. Un uomo incontra un amico che non vede da tempo e gli chiede. Come stai? L'amico risponde. Bene. Grazie a Dio. E tu? Anche io sto bene. Grazie a mio suocero. Come mai? Perché è sordo. Un giorno un uomo dice al suo suocero. Suocero. Lei è come un padre per me. Grazie. Genero. Risponde il suocero. No. Dico sul serio. Insiste l'uomo. Lei è proprio come un padre. Non le piacerebbe adottarmi? E perché dovrei adottarti? Chiede il suocero. Perché così diventerebbe mio fratello e non più mio suocero.